L'animo e lo spirito napoletano, ma la voce affabulatrice e narratrice, Donna Isabella Grimaldi. Un po' Ciociara, un po' Sabina, ma direttamente dal Torrino, la nostra voce Gabriella Iello. Un po' Ciociara, un po' Ciociara, un po' Ciociara. I due superstiti. Grazie al teatro Sottotitononaca, grazie a Filippo D'Alessio e tanta felicità per questi altri tre anni che mi conferma. Ma tre, 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 che il teatro fa bene come la musica. E noi vi offriamo questa cantata fatta alla maniera vestigiana, dove casa per casa si va a raccogliere il cibo per poi cantare e parlare insieme. Grazie, grazie alla compagnia La Palazza, grazie ad Antonio Anastasia, alla Polica Tenucci, grazie a Lidia, grazie a Maria Vittoria, a tutti quanti, a tutta settimana e a giù. Volevo ringraziare la donna Cecilia Brizzi della Brizzi Comune Cazioni, che tanto ha lavorato e tanto lavora per questo teatro come per la nostra cantata. E un grazie a Giuseppe Martino, che è presente con il suo occhio lucido e potente. Manda questa volta senza riappeggire, o me la rubano la nostra qualità, con la qualità, o me la rubano la nostra tua vita. Allora, intanto grazie sempre perché sono questa molta partecipazione, credo che sia la cosa più importante di questo teatro. prima di stappare, un piccolo grande ricordo per Monica Brizzi, che è stata un'altra ufficienza, ma adesso sta dove è, ma sicuramente è felice perché anche lei è andato tra l'altro a questo teatro, e noi vogliamo ricordarla sicuramente. E stare con noi sta sicuramente. Esatto. Buona dare! Grazie a tutti!